Anche l'immaginazione a volte resta senza parole. Stano il fargliela ritrovare, cercando ogni giorno qualcosa di impossibile da fare. Qualcosa di mai scritto, di mai fatto, di mai pensato, di mai osato. Qualcosa che lasci senza fiato, anche l'ottimismo più spudorato. Qualcosa che renda la nostra vita quel sogno che una notte, nel silenzio di un sonno, abbiamo sposato. Grazie per la visione! Grazie per la visione!